E' il tassello del puzzle più colorato di questa dodicesima giornata della Serie A in Prendi Roma, le tinte sono il verde e il celeste e Totti Wheezy Lazio dal circolo sportivo Stella Azzurra una buona serata da Emanuele Colombo a Ghetano Vitale col centro serve Mazzone, capisce tutto Luzziatelli può scatenare il contropiede Pereira con l'esterno servito Federici, Savoni in mezzo, Federici piazza centro del campo, fuori da appena al limite dell'area di rigore poi Totti, da lontano, palla fuori Totti, cerchio di centro campo, carica al destro Totti Federici, scarica ancora per Luzziatelli continuano a dialogare sulla corsia Mancini ai due Federici morbido in mezzo, mossa dal quattro Federici beccato in mezzo all'area di rigore una posizione defilata, mette dentro l'1-0 la Lazio va in vantaggio con il 10 ha alzato l'intensità soprattutto Cocuz in mezzo al campo intanto Savone, palo e poi la palla fuori era passata sotto le gambe di Escudero numero 12 del Totti Wheezy poi Cocuz, tocco pregiato del numero 70 la palla arriva a Silvani dopo una deviazione che prolunga per giuro al volo sì, prima non sono funzionate al meglio le preventive intanto ancora Pomposelli Pomposelli si accentra e calcia cerca e trova un gol fantastico, Vetrone non ci arriva raddoppio Lazio scarica ancora per il compagno si chiude ancora con Savone lo scambio poi di Allò quasi sulla linea e arriva a dire in porta arriva Romani, Tris della Lazio che chiude benissimo il primo tempo anche Pereira chiamato ad aiutare parte Francesco Totti forte centrale buca la porta difesa dal Zonfrilli si appoggia a Cocuz in verticale Silvani col tacco riceve Totti la chiama a Diallo Totti carica al destro da lontano Zonfrilli non perfetto e poi Diallo spara alto palla toccata dietro Pomposelli in verticale Federici che fa perno sul destro poi calcia col mancino deviazione di Diallo che per poco non diventa letale Totti in orizzontale cambia gioco trova strada Diallo se la prende poi allarga Matozzo di prima con l'esterno prova un gol improbabile ma da Matozzo anche la situazione era diversa la palla rimbalzava quindi più complicato intanto a te quando Cocuz si impegna per portare via la palla riesce comunque a passare Pereira Totti con l'esterno Diallo controllo con la cocia poi tiro col destro centrale da un lato all'altro ma la Lazio si muove veramente in maniera armonica è complicato marcarli intanto Totti con l'esterno trova Silvani non si può dire nulla intanto recupera la palla però Totti tocca dietro per Cocuz aspetta un tempo di gioco poi Tabarini qui si divora l'occasione per accorciare invertito la posizione con Diallo che adesso aggirà dietro a Totti Tabarini alza per Silvani c'è Zonfrilli l'ultimo tocco di Silvani per il gol che accorcia le distanze si rifà sotto il Totti Wisi un solo gol tra le squadre c'è di nuovo Cocuz alla sua sinistra Scudero va in verticale da Totti se la sistema carica al destro calcia respinto parla ancora buona però per Matozzo che lascia lì a Totti l'inserimento di Mazzone di testa Cocuz serve Silvani affrontato da Cruciani Silvani sovrapposizione di Matozzo tiro incrociato Zonfrilli la lascia lì davanti alla propria panchina l'indicazione di Mr. Cancellieri indiavolato che cerca di spingere i suoi l'uscita di Zonfrilli poi Cocuz la rovesciata per la deviazione e Silvani pareggia la partita con il tacco Lorenzo Silvani un altro gol pazzesco tutto in parità di nuovo Giura sbaglia l'appoggio di testa Pomposelli di gran carriera Sterza rientra poi Pereira Federici largo palla di nuovo al centro per Pereira occasione sciupata per portarsi di nuovo in vantaggio affrontato da Savone di nuovo si torna da Cocuz che carica al destro Zonfrilli la blocca arrivano qua i tre fischi finisce 3 a 3 tra Totti Wisi e Lazio una partita dai mille volti di nuovo in vantaggio di nuovo in vantaggio di nuovo in vantaggio